la mano a questa gente che sta senza tetto vai bene senza tetto chi è il suo fedente che sta senza tetto? perchè non va al lavoro? la mattina una sera e la brucia se ne sono cadute tutte le case noi gli diamo una mano come un basilico come qui la mano è scala poi sono meno come una mano e che meno è morta? no io tengo tutti i due per me che a me mi servono le mani e cosa vuoi? e cosa vuoi? e non c'è la zappa ma di nasi ma chi ti dici quanti zappi c'è? e chi ha? ogni panellata e ravena chi ha detto quanti zappi c'è? aiutati e pombalore vennellate dei pisciati vennellate dei pover vennellate e cacciocco vennellate ma che cazzo vuoi? che sa vuoi? se ne va per non essere contattati e se ne sai che sta sempre attorno ma ce la metto a tornare la femmina per tornare la pepe ma tornare ormai? no e allora meglio la femmina e la femmina e la femmina cosa stai 5 minuti quando hai detto che non picchierà tutto metto la capa e sto atto pure vai come mamma la femmina che fa la femmina? ci offriamo vitte alloggio allora noi ci offriamo vitte alloggio però non ha zappato la terra e giù allora che potremmo farla venire quanti posti di letto tiene? ehi 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 ma con i cintari che faccio qua io sa la cosa ma avevo femmina avevo femmina avevo femmina due tonne puoi portare a due tonne? e che ne zappano la terra le tonne? e poi mi chiedi che ne zappano in africa 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 fa così fa così fa così con i cintari mi sono andato a crassare e fare per la nuova tutte le cimpe di fare quindi che lei non lavora e vada bene e la cosa no e perchè si crassi? per fare per fare la forza non bagno levo la cimpe invece che la cimpe la forza va tutto il giorno capite? la piazza tutto? ah fa più grosso però zappano un po' però zappano un po' per fare tutto questo e tutto capite me? però non è potente fare zappare la zappa gomma che potente fare? lavare 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 e a cucinare e allora a cucinare a cucinare tutte le femmine non sapete fare niente potete cucinare l'uomo no? solo quello vestito per l'amore non sapete fare più niente le donne si cucinano i conigli sapete cucinare voi conigli? allora a te che ti dà se mi prendete una femmina che vuoi prendete per fare non c'è la ragione però a questo punto è quella ragione ma che cosa non ti vuole solo? e se vuoi fare la femmina l'uomo sai cosa? eh ti dà mi fanno mai la femmina allora Filippo tu che ne pensi? caro Filippo non c'ero se c'ero dormito eh ti dà cerchi di dormire mi dormo non piglia pesce mi c'era non dormire mai speriamo poi vede che si dorme per eternamente dopo dopo quando sarà a noi noi che ci abbiamo diciamo sempre con la valigia pronta che il ladro può arrivare di notte di giorno qualunque ragione allora io ti dico è per te c'è pure per me sta steppato pure per me quanto mai ti credi arriva hai capito? la valigia deve essere sempre pronta sempre pronta pure laia pure laia pure laia pure la valigia pronta però non ve ne volate ha portato di mano la valigia sempre pronta però quando io non voglio vedere piatrice con il triste non manca mano va bene va bene va bene va bene va bene passa la festa ogni cosa domani è un altro giorno non è questo è un altro secondo me è anche un po' la filosofia del mister speriamo di no domani è un altro giorno con il carpe diem carpe diem facciamo subito quello che sta da fare carpe diem vuol dire con gli lati domani è un altro giorno non fa passare lati eh o no quando c'hai tempo non aspettare tempo me non faccio ho ancora un'idea per aiutare questi terremotati i terremotati devi andare a zappare si danni non devi fare co porti di co si sono giù i terremotati non hanno costruito tutto il caso la stanno a costruire non stanno a fare tanti di i terremotati non fanno mai con i suoi pezzi eeeh non fanno i terremotati che ce l'hanno a mangiare e beve ma come allora è buono il terremot allora ogni tanto fanno pochi pulizzi fanno pochi levano pochi e sta a fare filmare ci stanza su internet se mettiamo il caso viene affondato il terremot ecco ma quando io sto rubando il terremot non vede che carlamot e tu te ne vuoi pure ne vuoi e qua le nipote anche uno di Luigi va a servire messo Luigi va a servire messo buoncivaggio no si è appiccicato ma con Don Giocco e sta a fare buono perchè chi fa tutto a Maria non è da Gesù e allora sai cosa tu devi fare Gesù guarda un po' allora li non ciò la prima cosa non ciò la prima cosa si è accura e fuori 50-60 quando i fatti ci vedevano c'era buono anche qui ma allora è frutto come si è messo mi scusa nessuno che le vende vende per senza venire senza aronare non ciò! nessuno fa non ciò non ciò serve ne manca i messi senza aronare non ciò serve ma allora tu si muore morì caso povero la messa a me non mi ha ricorda perchè non tengo soldi e che non ciò io sono stato scomunicato io sono stato scomunicato dall'acchietta fa un maume dall'alice per fare il caffetto con un anale pure a te ma non è mica è una messa proprio piano piano invece si tengono i soldi come funziona? se invece si tengono i soldi se invece si tengono i soldi la messa e cantata le città e tutto quello che vuoi vengono pure i metti cantata perchè mi dirige ma ci mi ha giggitato adesso e sto avendo qua dimmi portati qua guarda quanto è grosso questo è il nuovo gruppo niente già l'hai scettato tutto? non stiamo parlando di ingegni stai pure Gaetano ci ha mai detto qualcosa? pure insieme qui è venuto? non voglio Gaetano già ne siamo troppi già troppi fessi ha ragione su questo ti ha ragione ma l'Italia che hanno coppia di fessi chi? l'Italia che hanno coppia di fessi se gli stanno i fessi se gli stanno buoni non c'è perciò ti so sono stati tutti muscoli tutti qualità ma sei buoni ma la vedi qui? e allora non c'è non c'è se si assucchino il parcheggio non fuma c'è un piede l'armatore ammirate l'armatore ah prendiamo la targa aspetta commentatevi un attimo questa macchina questa macchina è del ma è ma è come si chiam il zucchivo perché il zucchivo non lo faccio non lo faccio già dopo i marciatori perché ce la fa non lo faccio ma è niente nessuno allora intu le lume stai stai ma è mi ha spezzato il coscio Mugliel ma ha spezzato il coscio mi ha spezzato il coscio e lui non ha visto che ha si chiudono non secondo me ma ha fatto proprio a cussi e ha detto se non la fulisca la fulisca cosi non la fulisca ti ha anche più là ma perchè lo struppi pure a esse meglio che struisca ma io struppi a esse no tu ci perdi sempre